Il progetto a casa da me è un progetto di rigenerazione urbana, questo è un progetto pilota dove noi facciamo vedere alcuni vecchi mestieri, alcuni laboratori di vecchi mestieri e allo stesso tempo l'idea è quella di rigenerare un qualcosa, qualche struttura, l'idea era costruire un forno, cercheremo di realizzarlo possimamente. Mettendo di morale piante e andando a salvaguardare quegli ambienti che ormai sono abbandonati, grazie alla regimazione delle acque andiamo anche a salvare quello che è il nostro territorio che soprattutto con questi forti piogge ha grossi problemi sia in ambito agricolo che in ambito di smottamenti e sversamento di strade. La Calabria è una regione d'eccellenza grazie anche agli investimenti fatti dalla regione Calabria, noi contiamo circa 450 aziende, aziende che operano e danno occupazione stabile. Purtroppo come un po' in tutto il mondo l'apicoltura è in grande sofferenza e la Calabria non è da meno, ma si riesce ancora a resistere sul mercato e proprio per quei grandi investimenti fatti negli anni passati dove c'è stata una forte professionalizzazione degli apicoltori. Oggi serve uno sforzo in più su questo settore per cercare di fare maggiore aggregazione e poter uscire da questi territori con maggiore forza e competere sui mercati sia nazionali e internazionali.